Per voi giovani, nonostante la crisi l'Unione Europea punta ancora sul progetto Erasmus per aiutare chi vuole studiare all'estero e imparare le lingue. Bella da morire, la nostra terra pur aggredita dall'inquinamento può essere ancora salvata. Tocca all'uomo disegnare un percorso virtuoso, se ne è parlato in un convegno a Roma. Troppo e male, le anomalie del nostro sistema carcerario. Un detenuto costa molto allo Stato, che però fa sai poco per rieducarlo a causa di strutture inadeguate. Un fiammingo a Roma, alle scuderie del Curinale la prima grande rassegna dedicata ad Hans Memling, un maestro del 400 olandese poco conosciuto in Italia. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del Tg di Lumsan News. Da lontano 1987, il progetto Erasmus è sinonimo di studi all'estero per tutti gli studenti d'Europa. Vediamo le ultime novità nel servizio di Elisa Madiella. Si chiama Diamogli Futuro, uno dei progetti da 19 milioni di euro avviati grazie ai fondi dell'Unione Europea, che consente ai ragazzi meritevoli di concludere il proprio percorso di studi all'estero. Il Fondo Studenti Italiani, invece, fornisce assistenza ai laureati che decidono di spostarsi in università americane. 15 mila euro in un'unica soluzione, che potranno poi essere restituiti a rate in sei anni. Il Parlamento di Bruxelles ha poi dato il via a Erasmus+, la nuova edizione del progetto, che metterà a disposizione dei ragazzi europei circa 14 miliardi di euro per i prossimi cinque anni. L'obiettivo è favorire non solo lo studio, ma anche attività di apprendistato, volontariato e a carattere sportivo. Studenti, tirocinanti e insegnanti saranno coinvolti in Erasmus+, con uno scopo preciso, sostenere il dialogo fra i diversi poli universitari, incentivare lo scambio di informazioni via web e garantire assistenza ai giovani che si preparano ad un percorso di studi all'estero. Il nuovo programma Erasmus+, prevede di inviare circa 2 milioni di studenti per la formazione superiore in mobilità dal 2014 al 2020. È un budget nettamente più grande rispetto al programma Erasmus sotto il Lifelong Learning Programme e ci sono anche moltissime novità, non solo dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista della qualità del programma. È stata lanciata una nuova piattaforma online per l'apprendimento linguistico che sarà disponibile nelle lingue principali usate nella mobilità degli studenti, tanto per fini di studio quanto per tirocini. Queste lingue sono ovviamente l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, l'italiano e l'olandese. Ma la crisi non risparmia neanche Erasmus. Anche se Bruxelles ha dovuto operare tagli, a volte anche consistenti, a chi si chiede se questo storico progetto sia oggi al rischio, l'Unione Europea risponde con un secco no. La Comunità Europea ha imposto ai Paesi membri di ridurre le emissioni di anidite carbonica del 40% entro il 2030 e di portare al 30% la quota della cosiddetta energia pulita. Dello stato di salute del nostro pianeta si è parlato alla LUMSA in un convegno intitolato Bella da morire. Su questi temi Raffaele Sardella ha sentito il direttore scientifico del WWF Italia, Gianfranco Bologna. Qual è la sorgente inquinante che la preoccupa di più? Guardi, io sono contrario alle classifiche, perché chi, penso, possa, faccia seriamente un percorso legato alle scienze del sistema Terra, alle scienze dell'ecologia, sa benissimo che la complessità è l'elemento numero uno. I dati ce li abbiamo di fronte agli occhi, abbiamo oltre la metà di tutte le superfici delle terre emerse del pianeta che è stato fisicamente trasformato dall'intervento umano e questo ovviamente indebolisce la capacità che i sistemi naturali hanno di supportare e sopportare la popolazione umana. Esistono delle stime su quanto ci costi l'inquinamento? Abbiamo percentuali che sono superiori al 2-3% del prodotto globale lordo, ma sono tutte stime per difetto, perché la capacità di tradurre dal punto di vista squisitamente dei meccanismi economici il valore della natura in un valore che può essere, come dire, contabilizzato economicamente è ancora bassissimo. Passiamo al problema dell'ILVA di Taranto. Credo che lì l'intera operazione di riqualificazione e recupero sia non solo costosissima, ma anche faticosa e lunga e credo che la cosa molto importante da fare è fare in modo che quell'area che in ogni caso dovrà avere una situazione di riqualificazione e di risanamento possa eventualmente diventare, proprio per evitare anche questa spaventosa crisi occupazionale, il rilancio per quanto riguarda un nuovo modo di fare industria che potrebbe, per esempio, attrarre alcune produzioni di carattere chimico innovativo che dovrebbero essere studiate, che magari sono anche localmente più consone e che non producono inquinamento. L'Italia spende molto per il sistema carcerario che resta però arretrato e poco funzionale, sia nelle strutture che nelle attività di recupero dei detenuti. Anna Bigano e Roberto Rotunno. Dopo Norvegia e Regno Unito ci siamo noi. Spendiamo molto se si pensa che nel 2013 ogni detenuto in Italia è costato quasi 125 euro al giorno. Pochi spiccioli però sono stati destinati agli investimenti in edilizie e attrezzature, costi di mantenimento, beni e servizi. Questi dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Assai consistente invece la spesa per il personale che incide per più dell'80%. Il dato è ottenuto dividendo le risorse totali per il numero dei detenuti. Lo scorso anno quasi 66.000. Gli ultimi interventi normativi, a dire il vero, hanno ridotto il ricorso alla carcerazione preventiva e favorito le misure alternative. Risultato, ci sono 12.000 detenuti in meno, ma visti gli alti costi fissi, è prevedibile che nel 2014 la spesa media sarà ancora più alta. Nonostante quel terzo gradino sul podio europeo, però le carceri italiane sono ancora inadeguate. Non si tratta solo di sovraffollamento, comunque contenuto nel corso dell'ultimo anno, ma soprattutto della difficoltà nel garantire a tutti servizi rieducativi di qualità. Quello che conta nell'edilizia penitenziaria è creare strutture che siano compatibili con un sistema di detenzione dignitoso e finalizzato al recupero dei detenuti. Questo in passato non è stato fatto, moltissime delle nostre strutture sono vecchissime, sono costose da mantenere e quindi gli interventi edilizzi sono indispensabili. Maggiori risorse servirebbero anche per favorire il lavoro dei detenuti, che oltre a rappresentare un'occasione di riscatto può contribuire a un migliore funzionamento delle strutture carcerarie. Con il nuovo sistema mondiale dei conti nazionali e regionali, il cosiddetto SEC 2010, viene modificato il metodo di calcolo del PIL, il prodotto interno lordo. Ci spiega cosa cambia Nicola Stacchietti. Chi vende sigarette di contrabbando finanzia la ricerca sul cancro e chi consuma droga sostiene il rifacimento delle scuole. Per saperlo dovremo capire cosa sia il PIL, tre letterine che fanno il bello e il cattivo tempo della nostra economia. E le decisioni riguardo il PIL, prese dai governi nazionali, ma soprattutto dall'Unione Europea, sono vicine al nostro quotidiano più di quanto non si creda. L'Italia, per esempio, ha deciso, se dovesse essere approvata la legge di stabilità 2015, di non diminuire il rapporto deficit-PIL come stabilito dai parametri di Maastricht, ma addirittura di portarlo dal 2,2 al 2,9%. Solo così il premier Renzi ha potuto racimolare 11 miliardi di euro da spendere per far ripartire l'economia. Eurostat ci informa inoltre con un documento pubblicato il 17 ottobre che, con l'adozione del nuovo Sistema Mondiale dei Conti Nazionali e Regionali, il cosiddetto SEC 2010, tre sono le modifiche metodologiche che hanno prodotto sostanziali variazioni di PIL. Le spese di ricerca conteggiate come investimento per un più 1,9% del PIL in area euro, le spese di armamento per un più 0,2% e un nuovo modo di calcolare le attività illegali introdotto da alcuni Stati membri. Grazie a questa operazione, l'economia italiana, per esempio, crescerebbe di ben 15,5 miliardi di euro, pari allo 0,9% del PIL, consentendo così al governo nuove possibilità di spesa, ma basate su flussi illeciti di denaro. A Roma, a novembre, scienziati e giuristi di tutta Europa ha confronto sul tema dell'innovazione nella società moderna. Nel comitato direttivo della conferenza, la professoressa Laura Pallazzani, docente alla Lunza. L'hanno intervistata Nino Fazio e Samantha De Martin. Di cosa si parlerà? Quali saranno le tematiche affrontate? Un grosso convegno che è stato sostenuto, che si svolgerà al Consiglio Nazionale per le ricerche, sostenuto dalla Commissione Europea, che deve fare un po' il punto di quello che è il sesto e settimo programma quadro nel contesto delle ricerche che sono promosse dalla Commissione Europea. Il rapporto che c'è fra scienza e società. Creare una sempre maggiore interconnessione fra il progresso scientifico-tecnologico e la società. La rapidità di questo progresso solleva un'enorme quantità di problemi morali. Cioè, tutto ciò che possiamo fare dal punto di vista tecnico è anche lecito farlo dal punto di vista morale. E quindi questo interrogativo, in questo confine molto delicato, è esattamente l'oggetto di riflessione della bioetica. C'è un confine sottile oltre il quale le scoperte delle tecnoscienze diventano nocive per l'uomo e per la vita. Beh, l'esempio che mi viene in mente è innanzitutto le questioni che riguardano l'inizio della vita umana. Quindi penso alle tecnologie riproduttive, penso alla sperimentazione sugli embrioni. Il vero problema è che esistono diverse etiche nella società in cui viviamo. Quindi c'è quel cosiddetto pluralismo morale. Essendoci diverse prospettive, non è molto facile trovare delle norme giuridiche, perché ovviamente le norme giuridiche si proiettano per l'intera società, per tutti i cittadini. E la difficoltà che esiste oggi nella bioetica, ma direi più a questo punto, nella bio giuridica, nel biodiritto, è quello di conciliare le diverse visioni morali, di trovare quelli che vengono oggi chiamati minimi comuni etici, per poter elaborare delle norme che siano adeguate a quelle che sono le esigenze della società. La bioetica si pone sempre in maniera guardinga nei confronti delle novità della scienza. Quello che anni fa sembrava dannoso, adesso si è rivelato utile all'uomo. C'è chi plaude allo sviluppo scientifico tecnologico e vede tutto ciò che deriva dal progresso scientifico come qualcosa di buono. Però forse anche un po' ingenua, tra virgolette, perché è chiaro che molto spesso siamo affascinati di fronte a nuove tecnologie, ma dobbiamo anche cercare di essere guardinghi, come diceva lei, cioè di percepire, riflettere in modo critico sulle tecnologie. Spesso le tecnologie portano qualcosa di buono nella società, però spesso possono portare anche dei danni all'uomo e alla società. Quindi bisogna trovare questi famosi confini di cui prima parlavamo. Gli scambi artistici tra l'Italia del Rinascimento e le fiandere di percorsi in una mostra che le scuderie del Quirinale dedicano ad Hans Memling, un grande maestro della pittura fiamminga del Quattrocento, Raffaele Sardella. I quadri di Hans Memling approdano alle scuderie del Quirinale per una mostra che racconta la fortuna del pittore di Bruges tra collezionisti e artisti dell'Italia quattrocentesca. Memling fu molto apprezzato dalla ricca borghesia italiana che nel XV secolo aveva rapporti economici molto intensi con le fiandre. A Bruges, dove Memling aveva la sua bottega, era presente una florida comunità italiana che commissionava ritratti e quadri devozionali. Fu così che Memling realizzò il ritratto di Benedetto Portinari, funzionario del locale Banco dei Medici, o il trittico Pagagnotti, commissionato dall'ecclesiastico fiorentino e riassemblato per l'occasione grazie al prestito della National Gallery. La mostra rappresenta dunque una rara occasione per vedere di nuovo completi politici che ora sono divisi e conservati musei molto distanti, come il trittico di Jean Crabbe, riunito grazie ai prestiti dei musei di Vicenza, New York e Bruges. Manca nella mostra un caposaldo di Memling come il trittico di Danzica, mai concesso in prestito dal Museo della Città Polacca. L'opera sarebbe dovuta arrivare a Firenze quattro secoli fa, ma fu rubata dai pirati che depredarono la galea su cui viaggiava. Alla mostra, che rimarrà aperta fino al 18 gennaio, il Palazzo delle Esposizioni affianca un fitto programma di appuntamenti, con storici e studiosi di calibro internazionale, per approfondire la conoscenza di Memling e della società del suo tempo. Finisce qui questa edizione del Tg di Lumsan News. I praticanti del Master di giornalismo vi danno appuntamento al 2015, a ritorno dagli stage di fine anno. Benissimo.